La lingua italiana grazie a noi è cambiata in meglio perché abbiamo proposto questo dizionario particolare che è un vocabolario, il wikibolario meglio, che praticamente insegna parole che vanno oltre ogni più rosa aspettativa, termini che fanno sorridere e quindi fanno star bene le persone. Se non ridi è l'unica ancora di salvezza l'umorismo io credo. Emil Cioran diceva che hanno tutti torto tranne gli umoristi, quindi è utile usare il nostro dizionario per poter salvarsi la vita. È il wikibolario, Zapparelli come sottotitolo, è il nuovo dizionario della lingua italiana in chiave umoristica. Ci telefonano dei professori universitari e di istituti superiori, sono già 7-8 che ci hanno chiesto, ci hanno telefonato ringraziandoci per questa opera perché leggono a fine ora alcune definizioni e sono sicuri, e noi siamo sicuri con loro, che ai ragazzi fa bene riuscire finalmente in un mondo di zombie come quello di adesso a ragionare e pensare, perché il nostro è un libro ludico didattico e divertendoti ti insegna a scoprire parole nelle parole, parole valigia, parole cannocchiale, insomma un'alternativa alle cavolate che si sentono purtroppo oggi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!